Mi chiamo Ismael, vengo dalla pasta d'Avorio, da un anno o qualche mese che vivo a Gioio Sionica. Per iniziare voglio ringraziare tutta l'Italia e ringraziare Gioio Sionica, ringraziare Ecosol perché è importantissimo ringraziare chi ti dà ospitalità e chi ti dà un po' di tutto nella vita. È importantissimo per me di ringraziarlo e in questi ultimi giorni ho visto in televisione, anche fuori dalla televisione, gente che giudicano l'immigrazione, gente che ti vedono e ti dicono neuro di merda, che sei venuto a fare nel mio paese. A me questo mi fa male, è vero che mi fa male, ma mi dà satisfazione. Perché mi dà satisfazione? È perché nella vita se non sei importante nessuno parlerà di te, se non sei importante nessuno ti guarderà. Perché sono importante che mi guardi e mi insulti? A me mi fa molto piacere, mi dà il coraggio di andare avanti. So che non sei migliore di me, so che non hai studiato più di me, so che non sei più figlio di me, so che... Cioè, mangi io mangio. Io cerco di andare soltanto avanti. E la cosa che volevo dire ancora è che il mondo, abbiamo una brevissima vita nel mondo. Il tempo che prendiamo per odiarsi, io penso che sia meglio di prendere questo tempo per amarsi.